...convenzione per i diritti delle persone con disabilità e un trattato internazionale fino all'istante a compagere le disegnazioni e le persone con ragione dei diritti umani ...convenzione che si possono di 50 atti ...e quello di promuovere, proteggere e assicurare il pieno evocare condimento di tutti i diritti ...e tutte le persone con disabilità Ilario? ...le persone con disabilità, non è gravito, scusate l'accesso equa, qualità, senza barriere e la... ...convenzione della scuola internazionale dal livello politico ...l'accesso alle strutture... ...l'accessione ogni barriera fisica per... ...l'accesso ai lavorativi... ...l'accesso alla lavorativa ...in ogni parcheggio ci sono dei posti riservati alle persone con disabilità questi posti non possono essere mai occupati da persone che non ne hanno diritto io mi impegno a rispettare sempre questo segnale che è il parcheggio per favore la mobilità delle persone con disabilità motorie i marciapiedi devono essere lasciati sempre liberi da ostacoli io mi impegno a non lasciare cento di ciflette... ...e una cartina sul marciapiede come questa foto qua? papà papà grazie